Allora, buongiorno, finalmente siamo arrivati alla quarta tappa di questo splendido Giro E, il Giro d'Italia elettrico che parte oggi da Scigliano. Per noi è un grande onore dopo quattro giorni in Sicilia essere qua in mezzo a queste splendide montagne. Abbiamo preso un po' di fresco ed oggi è ufficialmente la prima tappa in salita. Non c'è un pezzo in piano, i nostri atleti sicuramente faranno tantissima fatica. È importante soprattutto per un paese di montagna come quello di Scigliano avere partecipato al Giro d'Italia E perché le bici elettriche sono veramente un'innovazione che permette a tutti quanti gli abitanti di poter usufruire delle proprie strade in totale sicurezza e soprattutto con la bici elettrica e magari evitare di prendere le macchine, lasciarle un po' a casa e fare un po' di esercizio fisico. E questo è veramente il mood, lo slogan di quello che è il Giro d'Italia elettrico. Grazie a tutti. Grazie a tutti.